per chi non l'avesse capito siamo su fifa 17 18 19 addirittura e facciamo una partita contro contro la pallavolo femminile di calcio tutta 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 proprio femminile però è e come vedete anche qui caricamenti ricordano voi di pokemon go molto veloci molto rapidi proprio così adesso ci fa vedere la mappa del campo di battaglia il nostro obiettivo del gioco è uccidere dinosauri tutti i dinosauri che ci verranno ad attaccare questo gioco molto particolare perché se giochi online o da solo è un fps se giochi in cooperativa è un tps da un altro il che non ha un senso logico allora la cosa principale di questo gioco è che è lento a partita parte fondamentale non mi ricordo i tasti non ho buttato la granata anche io tranquillo da quella che si spara con ci sono dobbiamo andare al punto giallo se prendi lv forse migliore da mira dobbiamo seguire questo coso si per proteggerlo come vedete c'è la barra di vita di questo aggeggio misteriosamente tecnologico e io ballo la macarena come si carica allora come vedete in questo gioco è pieno così di dinosauri ma qualcosa l'intenzione di muoversi dovrebbe già spostarsi riavviamo perché il gioco sembra avere qualche problemino non si sa quale noi abbiamo provato ragazzi se il video vi è piaciuto scusa se vi è piaciuto mettete mi piace ciao allora non suvivali mettiamo suvivali infatti normal e sì perché suvival dobbiamo semplicemente sopravvivere il più possibile all'attacco dei dinosazzi ma no ci sono gli altri ma ok quindi questo qua ti ricordi di te lì finché facevo uno di teglia c'era tipo il reverendo la famiglia di quello che schifo belle le texture spalmatissime con un non caricato ma no questo gioco un euro costa simò e se lo vengono a comprare in effetti gli diamo un buon consiglio perché alla fine è divertente l'abbiamo anche provato un'altra volta proviamo dopo 3 minuti e 35 di dall'inizio della registrazione farvi vedere come questo gioco se compagno di i dinosauri ci sono anche i tempi di melo c'è una bella visione del il di meme eccoci adesso noi siamo sponati nella mappa vedrete comparire dei pallini rossi che indovinato un po sono proprio i cefali ok adesso è partito è partito forse con arvest dobbiamo guidarlo noi ecco lì arrivano da a ore 7 8 9 10 ah benissimo arrivano di ultima tessima tessi insomma allora ecco lì c'è anche la vita ah anche la vita ah ma che giro t'hai in questo oh carica oh carica a me partiamo da solo sono arrivato praticamente alla fine sicuro non è la simone che dovresti andare ma io non credo che dovresti andare arrivo butta 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 le granate aiuto stappo stappa non è il potere non è il potere non è il potere non è il potere qui il potere riparava fortissimo c'è un buon feedback con i domani ah come si imparava con il tasto destro siamo pronti per ripartire no no vado per cacchisuoli eh carica e ricarica tu vai sopra io vado a destra attenzione attenzione aspetta da un pochino indietro qua che quello ma già arriva addosso eh eh lo so lo so ma dove cazzo sta è volante probabilmente si altrimenti non eccolo i nemici sono diventati più forti ottimo allora poi vabbè abbiamo a parte le alleati non lo so Nicolai mi stanno attaccando Nicolai mi stanno attaccando Nicolai mi vado basta se ci vogliono non è qua no loro non vogliono tesi non è ah basta guardami devo fare tutto il giro si ti accompagno io dai no sono caduto pure io mi sa che stiamo perdendo eh fuori dai confini e mo che cazzo hai fatto ci hai fatto perdere la partita io eeeh nel dinosauro che stavo a cazzo sei andato di là che sta succedendo che sta succedendo che sta succedendo ho aumentato il tempo non ho capito no forse quando sono morto io boh non ho ben capito la sconfitta boh vabbè cioè per fuori dai limiti si però che cazzo non mi puoi mettere una situazione del genere dove posso uscire dalla mappa non ti posso uscire dalla mappa devo uscire dalla mappa bisogna quella affare del cacchio stava fuori dalla mappa è vero eh quindi questo gioco non vale nemmeno un euro però Nicola aspetta mi cos'è che io sono lento ah io ho finito la stamina no 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 che cos'è che cos'è spara, 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 spara oh no mi ha puntato dove ha puntato aah guardalo aah 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 madonna che botta che ne è stato sei morto no come no che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è vai bomba cacca Dove è entrato poi? E' morto quello che è morto? Alla! E' riferato po'! Ssshh! Ssshh! Ahia! Ah! Ma l'hitbox è molto nude di questo tizio! Ah! Ma nemmeno in Dark Souls non lo scrivete così di finito! Con l'aiuto! Ha un hitbox qualcosa! Sto Morenzo! Sto Morenzo! Ah! Non so se è così tanto a livello di città! Boh! Mori! Ah! Ah! No! Vabbè! Dove mi è buttato? Guarda! Ma poi io non capisco perché sei questo con la telecamera, ma non è! Perché io sono bello! Guarda! Ci sono compenetrati! E' uscito inubito! Ah ecco! E' uscito inubito! E' uscito inubito! E' uscito inubito! morto abbiamo fatto fuori si vuole un po a terra sono molto stanco un po il animale per caso non posso ritornare in vita è avuto il sonno basta un altro basta sei morto anche tu? eh mi hanno un po incornato se vedi che cos'è? oh! ma dai l'ho evitato abbazzo quella piccola mila quelli piccoli spara, spara nooo nooo ah ahia continuiamo a quelli piccoli allora si sparasse guarda lo farei volentieri spara ok è tappo difficile attenzione aiuto la modalità difficile com'è qua? scusa ah 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 mi sta mangiando nicolà ahia sono morto 23 secondi al respawn che fa il tempo giusto a riparare un attimo la cosa che vedo io a 100 credo cosa ce la fai? no vabbè ma sarebbe per un po' più io a 100 quando è morto? se non arriva al 100 non mi ho riparato riparata riparata guarda ah guarda ah 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 è un po' più ecco che fece tu proprio notare che io ho 67 uccisioni 7 assistone e fatto un cazzo io sono la mente in che senso l'assenza di mente oggi sono stanco mi ha chiamato lui oggi facciamo qualcosa mi ha chiamato lui e ma solo stanco di vivere di esistere se ragazzi se anche voi se vi è passata la voglia di vivere guardando i nostri video c'è manche uno che avete aperto delle palle mettete dislike e istituire il reato di simone come si fa che reato esiste e la tua esistenza proprio il governo farà queste riforme importanti per la repubblica stava di porto dietro di sbatti mezzo al governo lo fanno da solo pensiamo alle cose serie che è stato il compleanno di mattarella gli avete fatto gli auguri simone ma tra le bello da mettere vicino il comodino che mi fa il discorso buongiorno sono nata minuti di modi faccio vedere un'immagine la metto pure sullo schermo vai di quello di fare le immagini pastità del cazzo che te ne frega a peccato 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 mattarella è bello come trovato mattarella nella miniatura di la tua faccia ragazzi ci vediamo alla prossima magari con un altro gioco se avete giochi da consigliare fatelo che noi giochiamo ciao ciao